Un saluto da Alex Guarini di Trebimetro.com. Proseguirà anche nei prossimi giorni questa fase di stampo tipicamente estiva sull'Italia grazie a quest'area di alta pressione estesa sull'Europa centro-meridionale. Bel tempo che perdurerà anche nel corso del fine settimana, soprattutto a lungo i litorali, con cieli in gran parte sereni, mentre vi segnalo nelle ore pomeridiane lo sviluppo di isolati acquazzoni o brevi temporali sui settori alpini e lungo tutta la dorsale appenninica. Continuerà anche a far caldo, infatti vediamo nell'immagine successiva il dettaglio relativo alle temperature. Questi sono i valori massimi previsti nella giornata di venerdì e in rosso tutte le aree interessate da massime superiori ai 30 gradi. Per ora non ci sono ulteriori novità, quindi vi aspetto per ulteriori aggiornamenti su trebimetro.com.